L'euro ripiega nuovamente nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollar usa quota 1,2038 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,2002. Stabile l'inflazione dell'eurozona a febbraio, che ha confermato un più 0,9%, come il mese precedente ed il consenso. Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro usa yen quota 107,44, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 107,64. Cala leggermente a 58,6 punti l'indice dell'attività manifatturiera americana, a febbraio. La sterlina ripiega nei confronti del biglietto verde e scambia quota 1,3963 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista 1,3894. Dati deludenti sul versante della creazione di posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti a febbraio. L'euro prende fiato nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia 129,33, con la nuova resistenza vista a 129,52. È stata forte a febbraio l'economia manifatturiera dell'eurozona, che è migliorata al tasso maggiore in tre anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.